In relazione alla vicenda delle sanzioni adottate nei confronti dei pescherecci della marineria di Sciacca, che avevano inteso come estesa anche alla giornata del 1 maggio 2014 l'autorizzazione alle attività di pesca per il 25 aprile, il Ministero delle Risorse Agricole e Dipartimento della Pesca ha riconosciuto la legittimità dell'interpretazione data con conseguente revoca dei provvedimenti sanzionatori con l'obbligo di recuperare da parte della marineria la giornata di fermo in altra data. La disposizione del Ministero, dichiara il deputato regionale Lillo Firetto, che era intervenuto sul caso presso le autorità competenti, costituisce un atto minimale di giustizia per la maniereria Saccenze, in particolare per le imbarcazioni, che praticano lo strascico e le volanti, ultimamente particolarmente tartassate, da disposizioni stringenti e non effettivamente in linea con le esigenze ambientali.